Benvenuti a bordo comandanti io sono Blizzard e oggi siamo qui con un nuovo episodio della Blizzard Academy interamente dedicato agli incrociatori da battaglia ovvero i cruiser più pesanti di World of Warships. Siamo qui nonostante abbiamo qualche linea di febbre e di influenza ma non poteva mancare il nostro video riguardante un argomento caldo delle ultime settimane soprattutto dopo il reward degli skill comandanti che ha visto gli incrociatori da battaglia uscire fortemente ridimensionati. In questo video comandanti non solo cercherò di fornirevi quelli che sono una serie di consigli utili sul come giocare oggi gli incrociatori da battaglia ma cercherò anche poi di fornirevi quelli che sono diciamo le caratteristiche principali dei cruiser da battaglia ad oggi esistenti in gioco, la loro sottoclassificazione e una serie di informazioni per poterli diciamo riconoscere più facilmente. Siamo qua praticamente su hotspot zona calda, curio contro curio, club rz52 contro shimakaze e allan, un numero considerevole di battleship in acqua tra cui concorron e thunderer che sono dei clienti durissimi per questa nave oltre allo yushino che poi in pensieri vi è parecchio con i suoi proiettili incendiari. Comandanti, le 9 skill comandanti e 9 skill di uomo del rework dei comandanti sono andate praticamente a modificare in maniera molto importante il gameplay di queste navi perché prima potevano in qualche modo spadroneggiare riuscendo comunque a superire al gioco aggressivo grazie alle skill di sopravvivenza che ora nel ramo cruiser sono state completamente levate dalla wargaming. Non ci sono più praticamente skill che permettono alla nave di avere maggiore resistenza sia dal punto di vista degli incendi sia dal punto di vista del rper party tutto il resto di conseguenza il gioco deve essere molto più accorto, molto più tecnico, molto più studiato e ogni azione che farete in acqua dovrete farla al massimo delle vostre capacità di lettura perché altrimenti se andrete troppo in avanti, se verrete troppo esposti al focus nemico finirete presto per far compagnia ai delfini. Comitato a vedere non andiamo subito nel cap questo perché? Perché la portaria sta proteggendo il nostro calabere e perché vogliamo sensibilmente sapere prima quello che c'è dall'altra parte del grande vulcano che c'è in F3. Comandanti Hotspot è una mappa che conosciamo benissimo e vedete la prima cosa da fare in questo caso è capire effettivamente quale delle nave nemiche deciderà di attaccare il canale in linea 1 o 2. Quella colonna è importantissima per il controllo del cab di A e noi dobbiamo stare assolutamente attenti perché questa nave ha un pessimo consummate e se qualcosa riuscirà a superare quella zona finiremo poi per essere per mass potente del nemico nonostante il nostro potente radar fino a 12 km. Come potete vedere la nostra formazione batte-shik che ci diciamo protegge tra virgolette le spalle è formata da una doppia Yamato e una Vermont che hanno la più pallida idea di venire avanti. Di conseguenza non possiamo fra l'altro che andare noi in kiting o in fruade allontanamento per cercare di non diventare il facile bersaglio di Henry IV, Petro Pavlos, Kurfust, Shikishima e Thunderer. Praticamente l'intera flotta presente nemica a parte lo Yoshino e la Conqueror potete vedere il Petro Pavlos nemico ci sta un po' imitando anche lui va in allontanamento vedete arrivare i siluri ora sappiamo che c'è sicuramente uno Shimakaze qua sulla linea esterna e abbiamo prontamente segnalato ma la Porterie non sembra minimamente rendersene conto e con lo Shimakaze farà addirittura il giro della mappa. È importantissimo comandanti avere sempre la prura in allontanamento durante i fight di questo genere perché vi permette di avere una posizione di fuga privilegiata nel caso in cui le cose si dovessero mettere male. Il nostro radar come potete vedere è andato in azione ma lo Shimakaze è molto più lontano dei 12 km standard del radar e di conseguenza è riuscito a fare la franca col seno di poi praticamente abbiamo scoperto che il Destroyer era più o meno in C1-D1 come abbiamo segnalato vincando adesso sulla minimappa ma ovviamente la Porterie ancora una volta ignorano totalmente questa cosa. Fortunatamente lo Shimakaze è stato particolarmente furbo. Comandanti cosa dire di questo rework delle skill? A fine battaglia vi farò vedere praticamente quello che è attualmente il setup secondo me migliore per giocare un Battlecruiser di questa tipologia ovvero un Battlecruiser da medio e lunga distanza con radar assistenza anti-cruiser. Diciamo che di questa tipologia fanno parte lo Stalingrad, il Kronstadt, l'Alaska e il Puerto Rico. Mentre le altre due tipologie di Battlecruiser sono il Battlecruiser incendiario a distanza ovvero lo Yoshino e la Zuma e il Battlecruiser ibrido ma portato maggiormente al combattimento ravvicinato da tutti i siluri come l'Aggir e soprattutto il grande Siegfried che però è ottenibile con dei punti ricerca costa tantissimo e diciamo che non è proprio un affare da andare a prendere considerando la fatica che serve per andarlo a prendere. La stazione dei comandati comincia subito a farsi piuttosto critica, siamo sotto di due navi e il nemico controlla anche praticamente tra poco due cap su tre e classica situazione di collassamento sul cap di A dove lo Shimakaze praticamente mantiene i perma spottati noi, la Yamato e la Vermont oltre che il Kleber. Il nostro Destroyer francese non ha minimamente capito che lo Shimakaze ha preso la linea esterna solo la Vermont sembra effettivamente averlo capito i siluri continuano ad arrivare ma il nostro Destroyer francese è totalmente assente. Una cosa come andati che vedrete durante la partita è come abbiamo preferito molte volte i proiettili incendiari rispetto ai proiettili di AP ed è una cosa sul quale bisognerà studiarla a fondo perché vedete, giocando in Battlecruiser non dovete mai sopravvalutare sì comandanti, sopravvalutare i vostri colpi AP questo perché vi rendete conto a un certo punto della partita che conta molto di più fare danno continuativo e dare fastidio letteralmente alle corazzate del nemico e con gli incendi piuttosto che cercare sempre il colpo devastante sulle sovrastrutture classico del colpo AP considerando che a questa distanza è impossibile trovare la cittadella di una corazzata. Il nemico, guardate un po', ha praticamente portato 5 navi sul cab di A e controlla anche il cab di A nonostante lo Z stia tornando indietro ora siamo, guardate, in full reverse è molto difficile riuscire a cittadellare un Stalingrad in questa posizione ed è per questo che noi stiamo lavorando benissimo in questo frangente siamo passati intelligentemente ai proiettili e che come vi ho detto prima, guardate un po' lo Shimakaze viene avvistato adesso dalla Yamato ragazzi, sì, aveva fatto il giro di mappa per andare praticamente a prendere la nostra portere portere che in questo momento è spottata al tiro delle navi nemiche noi subito andiamo praticamente in aiuto della Curio sappiamo benissimo che lo Shimakaze si lui rincandano perché li ha appena utilizzati contro Yamato e Vermont di conseguenza possiamo tranquillamente prenderlo di mira andiamo radar pronto ma non lo utilizziamo subito questo perché? perché vogliamo aspettare che lui sia sicuro di essere in salvo all'interno della sua cortina fumogena ha accelerato dopo una prima decelerazione iniziale cosa che ci ha sorpreso non poco perché solitamente gli stanno tendendo ad accelerare subito ma lui non lo fa lo troviamo nuovamente attiviamo il radar arriva una salva devastante della Yamato e via praticamente devastating strike della Yamato sullo Shimakaze cosa molto rara a questo punto la condizione che possiamo fare è cercare di andare a recuperare la partita ma effettuare un push su A organizzato è la cosa migliore ma deve essere un push organizzato è molto importante ai comandanti non andare mai in isolamento non andare mai da soli alla fine del video vi farò vedere una serie di consigli per giocare il Battle Cruiser in elenco in modo che possiate avere sempre un punto di riferimento una sorta di bibbia del Battle Cruiser doppio incendio trovato sulla Battleship tedesca siamo già ridossati i 70.000 danni quasi tutti fatti a media lunga distanza perché non abbiamo praticamente incontrato mai nessuno che ci abbia effettivamente pushato a parte lo Shimakaze suicida guarda un po' la Curfo sta riparato subito il doppio incendio è nostro prerogativo ora trovare nuovamente l'incendio per causare un permafire sulla Battleship tedesca vediamo se le sovrastrutture è molto importante evitate di sparare con le AK sullo scafo alzate leggermente il tiro come se state utilizzando delle SAP del Venezia e giù di nuovo di H.I. la fortuna ci aiuta permafire sulla Curfus guardate un po' Shikishima e Thunderhead vengono avanti praticamente loro rappresentano il grosso della flotta pesante nemica considerando che dall'altra parte è rimasta solo una Yamato e una Conqueror che sono sopravvissute alle attacche della nostra Repubblica e Curfus sul lato di C a questo punto ci ricompattiamo con la Yamato e la Vermonte è fondamentale non isolarsi mai è vero comandati che i destroy sono stati cancellati ma c'è pur sempre una Curio in acqua e sapete benissimo che le bombe AP della Curio possono fare malissimo sugli scafi di tutti i Battle Cruiser sui punti meglio dire di tutti i Battle Cruiser compreso il grande Stalingrad qua passiamo direttamente alla P questo perché ovviamente ragazzi l'R IV è molto più vulnerabile sul fianco rispetto a una Curfus è andata in accelerazione, ha usato praticamente il suo consumabile di conseguenza andava tirato leggermente in avanti il colpo rispetto a quello che gli abbiamo fatto noi l'aerio ormai sta cercando di ripararsi dietro quell'isolotto perché ha visto che la situazione è piuttosto precaria prende un'altra salva della Yamato e poi va in una condizione estrema con pochissimi HP a bordo cercando di rimontare e adesso che le cose si fanno dure per la Stalingrad perché i comandanti Shiki, Shima e Thunder sono sui noi avete visto subito il colpo in arcade nel rivo e sono gli incendi il problema principale del battlecruiser in questa circostanza perché ormai i comandanti non potete più ridurre il danno da questo punto di vista e quindi diventerete praticamente dei cirini galleggianti spesso permaspotati dal nemico su qualsiasi mappa voi giochiate andiamo nuovamente sulla Thunderer che sta accorciando verso B è praticamente il loro unico cap che manca gli altri due li controllano all'inizio partita non ci resta che cercare di conquistare un cap che a conti fatti sembra essere stato completamente abbandonato dai nostri avversari ovviamente non possiamo contare sulla velocità della Vermont che praticamente è un pachiderma dei mari però cerchiamo di giocare vicino alla Yamato per massimizzare i danni con lei siamo fortunati, questa volta la Thunderer non trova l'incendio un'altra cosa fondamentale comandanti utilizzando i Battlecruiser imparate a usare sempre in combo il Damage Control Party e il Repair Party il Damage Control è quell'icona che vedete in basso il reconsabile a forma di estintore mentre il Repair Party è l'ultimo di destra ovvero la capacità di recuperare punti vita cosa vuol dire utilizzarli in combo? vuol dire praticamente che quando utilizzate uno non dovete utilizzare l'altro magari cercate di compensare quando avete un doppio incendio usate il Damage Control e spiegate l'incendio se invece dovesse ricapitare nuovamente un doppio incendio ancora sulla nave andrete praticamente di Repair Party e potrete recuperare gli HP che state perdendo non dimenticatevi mai fondamentale che sia il danno da Flooding ovvero da Falla quello quando imbarcate Acqua sia il danno da Incendio è assolutamente completamente recuperabile quindi Repair Party vi recupererà tutti i punti vita che state perdendo in quella circostanza guardate un po' la Shikishima sta attaccando stupidamente il Cap DB non c'era alcuna fretta ad andare lì noi non riusciamo a trovare la cittadina io ho dovuto leggermente alzare il tiro perché altrimenti con il colpo così teso non avremmo certamente superato quel promontorio e ora decidiamo di attaccare e conquistare il Cap D.A. La Vermont sta accorciando al centro è un grosso errore perché si è separata dal gruppo e a questo punto è un facile bersaglio non solo per Acurio ma anche per tutte e tre le navi sul Cap DB ovvero Harry Thunderer e Shikishima è nostra priorità riuscire ad accelerare la conquista del Cap D.A. e praticamente affondare la Shikishima il prima possibile anche perché un'altra corazzata è stata affondata a destra la situazione praticamente ai comandanti è estrema perché gli avversari controllano un Cap e mezzo e hanno 200 passapunti di vantaggio su di noi arrivano i primi danni dei rocket nemici guardate un po' come lo Yoshino si è spostato a destra praticamente tra poco avremo addirittura due navi che cercheranno di attaccarci sul lato destro tra l'altro quello Yoshino sarà particolarmente intelligente nel combattere con noi non sarà uno stolto come sembra guardate un po' Larry sta accorciando noi cerchiamo di avere tiro sulla Conqueror che è messa praticamente a sinistra è isolata è il main target della squadra chiamiamo il focus target su quella nave anche la Vermont può spararci per non parlare poi del Kleber del Venezia e ovviamente la Yamato che è in formazione con noi e sarà fondamentale per l'esito della partita la Conqueror sta fondata facilmente dalla grande Yamato e a questo punto cerchiamo di proteggere utilizzando il defense fire massimizzare l'antiere con la Yamato e proteggerci dalle bombe AP della Curio guardate qua siamo riusciti a evitare di un soffio le bombe è fondamentale riuscire a restare in formazione per massimizzare i danni antieri guardate un po' adesso una chicca cerchiamo di stare dietro questo isolotto praticamente restiamo invisibili la Yamato spotta per noi il Henry IV di conseguenza possiamo sparare senza essere avvistati e l'Herry non sa quando effettivamente arriveranno i nostri colpi questo ci dà un vantaggio enorme perché possiamo prenderlo quando effettua delle strane virate invece di andare sullo Yoshino che dà completamente il Brozai cerchiamo di massimizzare i danni su l'Herry che deve essere affondato il prima possibile per ristabilire il vantaggio dal punto di vista navale e di punti anche guardate un po' l'Herry effettua l'ennesima virata strana alziamo ancora una volta il tiro andiamo di doppio praticamente l'Herry non vede partire i colpi vedete però questi vanno comunque a segno grazie allo spotting della Yamato fondamentale la posizione qua un'ottima posizione per riuscire a sparare restando invisibili e con i cruiser comandanti con il tiro a parabola come quelli americani funziona anche meglio rispetto a quello dello Stalingrad l'Herry non ha visto arrivare i colpi non sapeva che gli stessimo sparando contro l'Herry affondato vantaggio navale per noi ma tra poco le cose si metteranno male guardate adesso la Yamato praticamente è in fin di vita dobbiamo dare il cambio alla nostra batte dobbiamo attirare il focus dello Yoshino questo perché perché lei non può assolutamente superire al danno dello Yoshino e finirebbe per essere affondata nel giro di due salve di conseguenza andiamo un po' avanti e cerchiamo di attirare l'attenzione dell'incrociatore da battaglia giapponese ovviamente va di di HE ma guardate un po' sta anche utilizzando i suoi potenti siluri sarebbe un errore da parte nostra combattere in mare aperto con lo Yoshino perché è una delle peggiori cose che può accadere lo Yoshino in campo aperto è molto più forte dello Stalingrad perché praticamente può vantare sui siluri che vanno anche lontanissimo cosa che lo Stalingrad non può montare guardate adesso intelligentemente lui cosa fa si mette di prua non accorcia l'allianza perché ha paura della Yamato ha già lanciato il siluri rossa benissimo vuole invitarci a venire avanti ma noi non siamo così stupidi andiamo in reverse utilizzando quell'isolotto una specie di piccola penisola lì davanti a noi per evitarci di arrivare i siluri in faccia e cominciamo a passare a Kai per fare lo suo stesso gioco ovvero giocare a chi incendia di più è una cosa comandante che può metterlo Yoshino in grande difficoltà perché è particolarmente grosso facile da penetrare sulle sovrastrutture e sarà quindi uno scherzo buttarlo giù a incendi anche perché noi andiamo per sempre i 4,60 della giapponese che ci daranno una mano in questa posizione praticamente i shiuri nemici sono facilmente gestibili nonostante non abbiamo l'idroacustica perché come sapete lo Stalingrad non la monta guardate un po' rallentiamo ecco i siluri facilissimi da prendere che stanno arrivando riusciremo a evitarli senza problemi la nostra posizione è perfetta e giù ancora di incendi fortunatamente per noi la Thunderer nemica è stata particolarmente stupida non ha aiutato lo Yoshino ha giocato praticamente in isolamento e questo ci ha aiutato perché ci ha permesso di fare un 2 contro 1 la Yamato guardate ha raddoppiato i suoi punti di vita rispetto a prima grazie al Repair Party e a questo punto prende il cambio rispetto a noi questa Yamato che in live sembrava un fesso era stato un giocatore preziosissimo per poi cercare di vincere la partita la Yamato dà il cambio non possono arrivare i siluri perché il Yoshino ce l'ha in countdown la Yamato lo sa bene e quindi a questo punto la Yamato cercherà di aprire un 2 lo Yoshino come una scatoletta di tonno e considerando che il Yoshino è particolarmente leggero di corazzatura per i 4.60 sarà uno scherzo guardate come lui continuamente va su di noi perché siamo noi la nave che deve affondare siamo rimasti a soli 14.300 HP guardate un po' andiamo ora in Repair Party tra 20 secondi possiamo tranquillamente gestire il nostro incendio alla grande mentre il nostro Repair Party ha un minuto ancora di countdown a questo punto lasciamo andare la Yamato in avanti questo perché perché se arrivasse una salva contro di noi della Thunder sarebbe la fine considerando il massimale di danno che può fare la corazzata contro le sovrastrutture dell'incrociatore da battaglia anche qui sapere usare le tue HP sapere dare il cambio agli alleati è fondamentale giocare squadra proprio per questo per riuscire a centellinare e fare un'ottima gestione dei vostri punti vita ad andare praticamente a molti più punti vita di noi e considerando che il Pietro ha appena fondato il Venezia siamo ora in 3 contro 3 con un leggerissimo vantaggio di punti ma loro stanno prendendo il KDB a questo punto attacchiamo Compatti aspettiamo di avere il Repair Party a disposizione per questo che abbiamo messo la velocità a metà vogliamo prima avere le sicurezza di sopravvivere la Yamato deve tancare al posto nostro ed è quello che sta facendo anche se forse sta cercando addirittura il colpo sul Petro Pavlos per impedire che questi possa affondare la nostra Acurio che ormai è rimasta veramente in fin di vita pessima la partita della nostra porta aerei non aveva senso accorciare da quel lato in quel modo a questo punto la Thunder racconcia ancora sulla Yamato la Yamato sta a tutti i costi affondando l'incrociatore pesante sovietico abbiamo recuperato punti vita li stiamo recuperando ancora usciamo e cerchiamo di affondare la Thunder andiamo di sovrastruttura perché questa distanza comunque possiamo fare molto male infatti guardate entra una salva da 7000-8000 facilmente sono pur sempre dei canoni sopra i 300 mm la Thunder ha delle sovrastrutture veramente molto morbide lei vuole a tutti i costi affondare la Yamato e ci sta riuscendo affondare facilmente la Yamato a questo punto ci basta una singola salva per affondare la Battleship inglese che è un po' la corazzata del momento comandanti forse in questo momento la corazzata più forte dai tier 10 nella random battle vediamo una ricarica migliorata rispetto ai 457 inglesi noi perdiamo la porta aerei ma comunque siamo riusciti a prendere la kill sulla Thunder a questo punto manca a minuto e 20 andiamo a 2 cap guardate un po' il punteggio 40 punti da recuperare il defense fire dello Steiger è particolarmente potente la cosa migliore da fare è andarsela e filarsela via a gambe allevate come se non ci fossero domani veniamo ovviamente per cercare di andare incontro ai siluri della Curio e poi praticamente ci metteremo di poppa non ha senso per noi andare a cercare la kill sul Petro Pavlos perché guardate considerando il timing che manca meno di un minuto se loro non contestano il cap di B e il Petro Pavlos non ha la velocità per arrivarci non riusciremo tranquillamente a vincere i punti io praticamente la virata dello Steiger è praticamente pachidermica è praticamente una battleship trasformata a cruiser perché è lungo anzi più lungo di ogni amato comandanti inevitabile prendere quel siluro guardate un po' 32 secondi il sorpasso ormai è imminente e noi praticamente ora ce la filiremo a gambe guardate il danno potenziale 2 milioni e 2 danno da spot in 30 mila e praticamente la nostra partita si concluderà tra pochi secondi 15 secondi e possiamo anche andare a vedere i risultati post partita anche perché come sapete non riusciremo a sopravvivere e a vincere questo match questo è lo screen della nostra partita quasi 200 mila danni qualche ero battuto 164 colpi avete visto quanto è importante il danno da incendio quando le batte ci cercano di giocare solo di frontale nei vostri confronti come è accaduto spesso in questa partita solamente sulla Thunder alla fine abbiamo avuto il Broadside altrimenti non l'abbiamo mai avuto un pochettino forse sull'aereo e sullo Yoshino ma a intermittenza guardate un po' lo screen della partita è molto interessante avete mai visto nel team perdente così tanti navi sopra i mille punti è veramente incredibile tutti sopra i mille tranne uno l'ho messo perché oggettivamente non mi ero mai scaduto una cosa del genere guardate un po' queste sono le skill il comandante che vi consiglio in questo momento sui Battle Cruiser da medio e lunga distanza anti-cruiser con radar esattamente come Stalingrad Croshtad Alaska e Porto Rico ovviamente la possibilità di girare più velocemente le torri il skill che vi permette di livello 1 di switchare i colpi da PHE il damage control scusate il priority target è fondamentale per sapere quando qualcuno vi punta avere un costabile in più a bordo fondamentale ovviamente Adrenaline Rush come sempre il 5% migliorato del danno si colpi a P perché comunque è il vostro munizionamento principale per quanto riguarda questi cruiser e poi lo spotting per quanto riguarda la skill che vedete in basso a sinistra si attiva solo in alcune circostanze della partita ma quando si attiva avete un 8% in più sulla ricarica dei cannoni e considerando quanto sono temibili quelli dello Stalingrad è un bel buff per voi guardate questo praticamente è lo Stalingrad per quanto riguarda invece i moduli in basso sono quelli standard che potete vedere la riduzione del timing sulle incendie sui flooding come quarto slot la protezione migliorata la durata maggiore del radar i moduli principali migliorati l'inconsalment e ovviamente la ricarica migliorata come ultimo step ora vi faccio vedere comandanti quello che è la tipologia dei battle cruiser attuali sullo sfondo ho messo il renown che è il mio grande sogno uno delle mie navi preferite spero che un giorno faccia l'ingresso su world of worship uno dei re dei battle cruiser britannici i battle cruiser si dividono praticamente in tre gruppi da lunga distanza specialisti in incendi battle cruiser ibridi e da media distanza specialisti in assistenza radar e anti cruiser quello che avete visto stalingrad cruiser dall'asca a porto rico è vero che il porto rico avendo quattro torri gioca anche spesso angolandosi e sfruttando le quattro torri ma gli altri tre fanno essenzialmente quello che avete visto in questa partita fare dallo stalingrad azuma e yoshino sono specialista negli incendi a distanza devono stare a lunga distanza e forse loro dopo questo reward delle skill sono i battle cruiser che escono più rinforzati perché a loro di essere incendiati non frega più tanto considerando che giocano sempre a 16, 17, 18 km dai target e a quelle distanze tra nella thunder e nella conqueror non arrivano poi tanti incendi infine i battle cruiser ibridi sigfried e agir sono specializzati nel fare entrambi possono giocare un po' di tutto avendo i sull'ira a bordo sono specializzati anche come nel caso del Siegfried del combattimento ravvicinato grazie alle sue secondarie ma diciamo che hanno dei gameplay molto situazionali che vanno studiati in base alla situazione che vi capita in partita questi sono i consigli che noi cerchiamo di darvi per quanto riguarda i battle cruiser tempo reggia nella fase iniziale della partita l'avete visto cerca di capire sempre quello dove va il nemico cerca di capire che cosa hai di fronte non andare mai a testa bassa perché rischi poi di effettuare delle manovre dove non potrai tornare indietro e finirei per far compagnia alla sirenetta non isolarti mai se non in casi particolari l'avete visto quanto è stato importante giocare in combo con Vermont e Yamato massimizzando l'antiera specie quando c'è la portairi in acqua fondamentale quando c'è la portairi non isolarsi mai soprattutto con una nave così facilmente gianneggiabile dalle bombe AP resta sempre a distanza dal bersaglio non date mai per scontato che avendo dei canoni più potenti riuscirete facilmente a aprire in due il target avete visto sullo Yoshino se quello si mette di frontale e gioca con voi di incendi riuscirà comunque ad avere un vantaggio in un fight lungo quindi non sottovalutate mai la distanza dal bersaglio comprendi quando è il caso di andare in push avete visto prima andiamo temporeggiato poi siamo entrati nel cap quando si arriva per cercare di ribaltare la partita non fate le cose troppo in fretta ma fatele al momento giusto spingete sull'acceleratore solo quando è il caso di farlo come nella partita che avete appena visto controlla sempre la posizione di destroyer sulla minimappa è fondamentale è la prima cosa da guardare capire dove sono i destroyer non solo i destroyer nemici ma anche i vostri alleati avete visto il Kleber totalmente ininfluente non potevamo contare su lui è per questo che si abbiamo accorciato solo dopo perché lui non avrebbe mai fatto da scudo o da spotting per noi era chiaramente un giocatore molto scarso su quale non potevamo fare affidamento privilegia il gioco di gruppo con le corattate l'avete visto mai isolati utilizza il radar con saggezza utilizzalo solo quando sai che è indispensabile non buttarlo a caso perché il countdown dura più di un minuto e mezzo di conseguenza lo avrai solo in certi momenti della partita è fondamentale utilizzarlo solo quando puoi fare più male sull'avversario come alla fine sulle cimakaze quando l'hiamo spottato e la Vermont lo ha massacrato scusate la Yamato lo ha devastato con quel colpo in HAI non sopravvalutare i proiettili AP l'avete visto quanto è importante scatenare degli incendi l'avete visto sullo Yoshino l'avete visto sulla Curfus l'avete visto poi sulla Thunderer è fondamentale andare sugli AP solo quando siete sicuri di poter fare veramente danni ma altrimenti non disdegnate mai di andare con i colpi in HAI di causare danno per minuto danno da DOT danno da TIC ovvero il danno costante sul bersaglio che per le batteci spesso è molto più fastidioso che il danno alfa puro del danno bianco delle proiettili AP cercati sempre una possibile via di fuga l'avete visto all'inizio avevamo effettuato quella manovra in Kiting per cercare eventualmente di disingaggiare se il nemico avesse deciso di spusciare anticipatamente in maniera troppo aggressiva l'hanno fatto solo in due abbiamo potuto mantenere quella posizione l'avessero fatto in quattro ci saremo defilati verso la Curio impara a gestire al meglio l'incendio è fondamentale l'avete visto durante la partita centelinare gli HP avere il repair parte di disposizione quando non avete il damage control oppure il contrario cercare sempre di avere la vera e propria propensione all'uso degli HP si chiama manage HP in inglese ovvero la capacità di gestire i propri punti vita è fondamentale nel competitivo ma è fondamentale anche nelle random per riuscire a durare il più a lungo possibile a galla comandanti questi sono i nostri consigli la navia che vedete sottofondo è il leggendario battlecruiser UD affrontato dalla Bismarck nella seconda guerra mondiale cosa dire io spero che il video vi sia servito comandanti a mio avviso il reward delle skill non ha e ha zoppato più di tanto i battlecruiser ha semplicemente modificato il gameplay e ora richiedono molte più abilità rispetto a prima prima anche un Pirla poteva scendere in campo con l'Alaska un Aguir uno Stalingrad e fare grossi numeri oggi invece non avendo più le skill sopravvivenza sono richieste molti più ragionamenti molto più gioco tecnico che prima non era richiesto quando giocavi questi colossi dei mari ecco perché ora rendono molto meno i giocatori mediocri non ci riescono solo i giocatori forti possono farli veramente performare al massimo servirà tanta pratica per padroneggiarli spero che vi sia servito il video spero che comunque abbiate diciamo avuto un quadro generale piuttosto convincente della situazione noi ci sentiamo martedì con un video della Dante Alighieri e per quanto riguarda la Biz Academy tornerà sabato prossimo con la prima parte delle nuove skill dedicate alle battleship ciao da abbilizzare è tutto ci sentiamo alla prossima buona caccia